Il Waste Watcher 2019 ci dice alla domanda a cui dobbiamo rispondere, ma cosa bisogna fare per evitare lo spreco? E' la risposta prevalente l'educazione elementare, quindi siamo convinti ancora di più che bisogna che questa educazione rientri nei programmi scolastici a partire dalle elementari. Soltanto con la consapevolezza, con la responsabilità, con il sapere che il cibo ha valore e che non si spreca.